ciao raga da Pastor Anconcio io fatevi questa cosa tiate faccio vedere pure la marca la vedi è uno spettacolo perché mentre mi gusto il bel filmato di Matteo mi fu una bella sigaretta elettronica è potente è potente è una bella marca l'ho scoperta da poco 50 watt guarda 50 watt oggi sono riuscito a trattenermi parecchio guarda è bella e comoda solo che la sto scaricando di continuo mannaggia la miseria bella da te e poi tutti quanti positivi eh mi raccomando positivi 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 la tristezza tenemola fuori lasciamogliela a quelli che so che so incazzati col mondo non andiamo avanti ridemo cercamo di ridere basta questa richiesta di Candy Crash lo prego e niente vabbè vi volevo dire se volete smettere di fumare almeno provarci questa qua ELEAF non so se la vedi bene 50 watt la spesa è bella ti hai sembra una pistola bandito perché tu mi contesti vabbè detto questo io continuo a sentire Matteo c'è una cassetta e ci saranno le voci dei pazienti di quella volta su questa clinica psichiatrica ciao 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 Grazie a tutti.